Il volume si conclude con una rassegna dei principali momenti e aspetti dell'immaginario dei pomi e delle antiche pere nel mito, nel simbolo e di conseguenza nelle sue rappresentazioni artistiche, soprattutto nella natura morta, che nella sua interpretazione padana si dimostrò particolarmente debitrice al fratello del guercino Paolo Antonio Barbieri, che con Francesco Stringa, Cristoforo Munari, Pierfrancesco Cittadini e altri artisti inaugurò una stagione figurativa dove il gusto per l'elemento pittorico si univa, in qualche modo si allineava all'attenzione per il naturale, quell'attitudine che già era stata avviata nel secolo precedente quando i pittori avevano avuto l'ottima idea di frequentare gli studi dei botanici, in particolare lo studio di Ulisse Aldrovandi, il sudalizio, pensiamo al sudalizio di Ulisse Aldrovandi con Lorenzo Sabatini, poi via via fino ai Carracci. E quindi dicevo la rassegna del mito, dell'immaginario nelle arti figurative delle antiche pere conclude questo volume con una panoramica sulla natura morta padana, ma in realtà il sentimento e la visione della natura si era evoluta dall'età antica, quando la campagna e gli alberi della campagna erano entrati in qualche maniera negli orti picti dell'età romana, quelle stanze dipinte straordinarie che erano quasi le antenate per così dire delle nostre stanze paese tardo settecentesche. E la più famosa di queste stanze dipinte dove gli alberi da frutto entravano, venivano raffigurati, è senz'altro il cubiculum sotterraneo di Livia, la moglie dell'imperatore Augusto, nella parte sotterranea della villa di Prima Porta dove era raffigurato un pomario. Qui ci piace pensare in questo ninfeo nascosto, Livia sedeva cercando riparo e frescura nelle calde estati romane e probabilmente leggeva l'Odissea già ricordata dalla collega Rosella Ghedini, in particolare quel libro settimo dove si legge della descrizione del giardino di Alcinò, re dei Feaci, dove c'erano magici alberi di pere. Sopra la pera invecchia la pera, il pomo sul pomo, scriveva Moero nel settimo libro del poema. Dunque la pera non faceva in tempo a maturare e a cadere che subito veniva rimpiazzata da un nuovo frutto che si offriva pronto per l'alimentazione dell'umanità. Questa idea di una natura provida e generosa era profondamente radicata nella mente degli antichi ed era collegata ad una interpretazione dell'agricoltura come agricoltura del dono, come immagine dell'età dell'oro strettamente collegata alla percezione dei frutti della terra. E di questa idea, di questo immaginario di una natura provida che si donava incessantemente all'umanità, scaturiva poi un'idea per così dire di rispetto e di reverente stupore per la terra che era assolutamente nota agli studiosi e ai letterati del tempo. E quest'idea della natura provida di una terra che dona frutto e che pertanto va rispettata, idea modernissima, era nota a Plinio che nel ventitresimo libro della Naturalis Historia dedicato agli alberi da frutto mette in scena quella divinità che è l'agricoltura stessa, la dea Pomona che è già stata oggetto di un nostro intervento nel volume IBC dedicato al pomario della Villa Smeraldi. Pomona è in realtà, rappresenta, è la sintesi del patrimonio varietale dell'economia agraria antica ed entra in scena in questa sorta di presentazione che ne fa Plinio sapendo appunto il valore della dea come sintesi dell'ecosistema con una frase formidabile. Si presenta e racconta dell'antica agricoltura, l'agricoltura dei primordi, precedente, altre forme di economia elementare e dice l'uomo trasse dagli alberi la prima forma di nutrimento, quindi attenzione, prima veniva l'agricoltura e volgendo, raccogliendo il frutto, in questo modo era costretto a volgere lo sguardo verso il cielo. Ecco, questa è un'indicazione fondamentale sulla quale dovremmo riflettere. Raccogliendo un pomo dall'albero, inevitabilmente si è costretti a alzare gli occhi al cielo, considerando in questo modo il dono degli dei, quindi il pomo, la pera, in particolare dai risvolti allegorici che poi vedremo, come un simbolo dell'alleanza tra dei e umanità e quindi una sorta di, come dire, di patto basato sul rispetto del pianeta e delle sue leggi. E questa idea di Pomona come idea dell'ecosistema, simbolo del patrimonio varietale dell'agricoltura, era assolutamente nota il gallesio che le dedicò, le intitolò, non a caso, la Pomona italiana. Quindi i botanici e in particolare gli agronomi, alunni di Pomona, come recita la tradizione, conoscevano molto bene questa valenza. E quest'idea, pertanto, mi viene, devo assolutamente, e mio dovere, citare un volume a cura del professor Enrico Baldini, miti, arte e scienza nella pomologia italiana, volume CNR, nel quale ho prodotto uno studio su questo argomento, così come corre l'obbligo di ricordare l'intervento, i numerosi interventi del professor Gianni Venturi, sul tema di Pomona, divinità del giardino all'italiana, recuperata dagli studiosi, dagli umanisti, dall'antichità, e così eletta in qualche modo nome tutelare dell'agricoltura e del giardino. Non a caso è Pomona, la Pomona del Pontormo, che ci accoglie sulle pareti affrescate della villa di Poggio Caiano, dove non a caso si trova il museo della natura morta, un complesso che tutto il mondo ci invide, del quale dirò tra bevi. Quest'idea delle pere, dei frutti della terra, come dono degli dèi, poi costellavano l'immaginario delle bianche cattedrali, attraverso le quali transitavano i pellegrini, nei loro pellegrinaggi, erano almanacchi stagionali, calendari astrologici, che decoravano i portali delle cattedrali, vediamo questa strepitosa raccolta della frutta che decorava il portale sud della cattedrale di Ferrara, oggi si trova nel museo, opera del maestro dei mesi, dove la scena della raccolta delle pere evoca non soltanto i mestieri della terra, ma anche questa idea di prosperità, di fecondità della terra, che era fondamentale soprattutto per l'uomo del Medioevo, che si affidava ad una economia in prevalenza agraria. Ma quest'idea poi della natura provvida e del frutto del pomo come segno dell'alleanza tra umanità e dèi, scorrerà poi nei secoli successivi e concluirà in una iconografia molto radicata, quella della Madonna della Pera, un'iconografia di origine tedesca, centro e nord europea, radicata, veicolata in Italia dal celebre dipinto del Dürer, ma già presente, diciamo nel 1526, ma già presente un secolo prima in Italia e pensato un po' proprio Romagna, per i motivi che poi dirò. Prima di tutto la simbologia, perché la Madonna della Pera? Potremmo dire scherzando, Pera contro Mela 1 a 0, perché se la Mela è il frutto biblico del peccato ed è il frutto collegato a Eva, la Eva biblica, la Pera è invece collegata alla nuova Eva, a Maria, e rappresenta in qualche maniera l'espressione della dolcezza di Dio, perché tramite il Salmo 34, gustate e sentite, sperimentate quanto è dolce l'amore del Signore, per via simbolica nel tempo la botanica delle virtù, questa produzione letteraria degli umanisti straordinaria, l'aveva associata alla Vergine, che porgendo la Pera al Figlio, porge e in qualche maniera mediatrice dell'aspetto materno, femminile, della misericordia di Dio tra il Divino e il Figlio. Quindi questa è una sorta di simbologia che riscatta la Pera e la rende il simbolo della misericordia divina. E dicevo, questa iconografia è estremamente diffusa nell'area lombarda, Morito da Brescia, a Proda, in Romagna e particolarmente a Cesena nel 1374, una meravigliosa tavola di Paolo di Pasquale, produce una serie di dipinti dove si afferma e si radica profondamente nel nostro territorio l'iconografia della Madonna della Pera che possiamo ammirare in una serie di tavole conservate alla Pinacoteca Comunale di Cesena, questa del maestro di Cellino Atanasio, ricordo in proposito gli studi di Pasini e della Tambini sull'argomento o anche la Madonna con la Pera del maestro di Castrocaro, degli episodi abbastanza desueti che documentano oltretutto e testimoniano la vitalità della cultura della Pera, in questo caso la Moscatellina, in quel territorio. Probabilmente non si conoscono ancora bene esattamente le condizioni, nelle motivazioni della diffusione di questa cultura, ma è certo che la migliore, più facile conservazione del frutto della Pera nei mesi invernali ne favoriva in qualche modo la diffusione. Ovvio che non siamo ancora ad una visione strettamente scientifica o interessata da un punto di vista botanico del pomo, del frutto, ma pian piano andando verso il Rinascimento, quando l'universo delle immagini si riorganizza, ecco che Mantegna e altri pittori attingono al repertorio antiquariale e si ispirano alla civiltà del festone, delle dirlande fiorite e quasi repertori botanici e agronomici avanti lettera per decorare i pareti delle residenze dei principi. E l'opulenza dei frutti proclama da un lato la ricchezza della tavola del principe e afferma una discendenza immediata dall'antico avviando un primo passo verso una migliore e più attenta da un punto di vista naturalistico descrizione delle antiche pere e della frutta. Ma la svolta avviene a Roma. Avviene a Roma, come hanno illustrato gli studi di Nicole Dacò, dove nel 1517 nella villa, nella loggia di Psiche della Farnesina, esordisce questa rappresentazione veramente fastosa della natura, di una natura che Giovanni Daudine, allievo di Raffaello, descrive con grande attenzione naturalistica, aprendo la porta a un genere pittorico che poi esploderà di lì a un secolo, per un ricco banchiere, Agostino Chigi, uomo curioso, in contatto con gli ambienti scientifici, attento alle nuove specie botaniche e agronomiche che arrivano da oltreoceano, fa impiantare nei propri giardini ricche colture e fa rappresentare specie anche da oltreoceano a Giovanni Daudine che in questi festose strutture, in questi pergolati che poi ispireranno il Correggio, il Parmigianino, crea una sorta di repertorio, apre una finestra sul patrimonio varietale dell'epoca, a un passo dalla natura morta e di qui poi la civiltà dei festoni che è la bisnonna se mi si consente il termine del genere pittorico della natura morta, aprirà ad una più attenta descrizione della natura sia nelle decorazioni dei Carracci che frequentavano lo studio di Ulisse Androvandi che nei dipinti della natura morta emiliana della metà del Seicento e penso queste meravigliose cornici pomologiche di Pierfrancesco Cittadini, figuranti le quattro stagioni con i rispettivi prodotti del suolo, presenti conservate alle collezioni comunali d'arte. Qui in questo straordinario autunno dei cittadini, i frutti dell'autunno e il protagonista in particolare le pere, proclamano la ricchezza del committente e ritraggono con un buon margine di probabilità quelle che erano le principali colture dell'aristocrazia bolognese dell'epoca. Ma per arrivare ad una esplosione veramente, ad un trofeo della frutta nella rappresentazione pittorica, bisognerà attendere quell'episodio che già ha citato il professore San Savini e cioè le tele di Ptolomeo Bimbi eseguite per Cosimo III de' Medici. Sono decine di tele meravigliose, straordinariamente descrittive, che onorano in particolar modo la cultura delle pere, una cultura, come abbiamo sentito, aristocratica e che si trovano al Museo della Natura Morta della Villa di Poggio Caiano, ribadisco un complesso straordinario che tutti ci invidiano. Il fattore favorente è quello di un ambiente scientifico, l'ambiente fiorentino, molto attento al tema delle culture. Cosimo III, uomo curioso, scienziato, figura estremamente moderna, vegetariano, salutista, è estremamente interessato all'agronomia, alla coltivazione. È animato da uno spiccato interesse scientifico, tant'è che nel 1677 affida al Redi la direzione del gabinetto di storia naturale, ma già Francesco de' Medici lo aveva preceduto chiamando a Firenze Jacopo Ligozzi, che era poi il pittore preferito dall'Aldrovandi, facendoli rappresentare specie vegetali, botaniche con un interesse scientifico. Nella tenuta della topaia il principe passeggia e passa in rassegna le colture di pere, che lui ama molto, forse anche per questa notazione aristocratica del frutto, e affida al pittore di natura morta Bartolomeo Bimbi, mettendoli alle calcagne, ai Micheli e ai Redi, perché ne guidino l'esecuzione, la stesura pittorica, di registrare lo stato dei suoi fruttetti di pere, ma anche di altri frutti, attraverso le varie stagioni. È un database del Seicento, un episodio assolutamente straordinario, che vanta in questo museo esemplari veramente eccezionali, dove la pittura abilissima che dedica al frutto, l'attenzione che potrebbe dedicare al protagonista di un dipinto di storia, è però messa al servizio della scienza. E Micheli e Redi e Bimbi mettono a punto quindi una sorta di unicum nella rappresentazione della frutta, che di lì a poco poi, quando a Firenze arriverà il nostro reggiano Cristoforo Munari, raffinatissimo interprete della narratura morta, si corromperà in senso positivo a favore di un'atmosfera di ambientazione, dedicando una pespicua attenzione alla rappresentazione dei pomi, delle pere, delle mele e della frutta in genere, immettendoli però in un contesto descrittivo, dove era posto il libro, il vasellame, il bicchiere dal vetro cristallino o talvolta lo strumento musicale, come nella grande pittura di natura morta europea. E quindi da lì questo sogno di una scienza espressa in forma artistica, di un dialogo serrato tra l'artista e lo scienziato e l'agronomo, in qualche maniera si piega ad un'interpretazione di parata o da salotto. Resta però che al Museo della Natura Morta di Poggio Acaiano si ravvisano le raffigurazioni pittoriche più straordinarie di tutte le pere, diciamo, del territorio, che si estendono nelle loro specie rappresentate, cocomera, abecco d'oca, briaca, fino ad una produzione che travalica l'appennino dalla parte del confine romagnolo ed entrerà anche nei nostri territori lungo, diciamo, l'asse di una cultura che irradiava dalla Toscana. Un museo straordinario che bisogna assolutamente visitare e dove, bisogna dire la verità, per le pere è davvero un'apoteosi. Vi ringrazio e qui concludo.